Studenti che non sanno dove potranno riprendere le lezioni e con che orari, genitori pronti a incatenarsi davanti alla scuola. La chiusura per inagibilità della succursale di Possagno dell'Istituto Alberghiero Maffioli ha messo in subbuglio le famiglie di quasi 600 studenti. Dalla provincia di Treviso l'assessore all'edilizia scolastica competente Franco Bonesso, che ha già svolto con sindaci e tecnici tre incontri e si appresta venerdì a svolgere il quarto e decisivo, rassicura che a settembre una sede per i ragazzi di Possagno ci sarà. Stiamo lavorando assieme all'Istituto per trovare una soluzione a far cominciare regolarmente l'anno scolastico. Mi sento di rassicurare i genitori e gli studenti che cominceranno regolarmente le lezioni in un ambiente sicuro. Diverse dunque le soluzioni ancora al vaglio. I sindaci si sono dati da fare per trovare eventuali soluzioni alternative. Un'altra soluzione potrebbe essere dieci aule che abbiamo a Montebelluna nell'Istituto Levi, quello nuovo. Bonesso rassicura che non saranno previsti doppi turni e lezioni pomeridiane. Ci siamo dati come obiettivo, primo, la sicurezza dei ragazzi, due, non penalizzare la didattica e quindi troveremo senz'altro una soluzione che impedisca i doppi turni.